oggi parliamo del dubbio se tesla sta usando il radar o meno con hardware 4.0 negli stati uniti sconti sulle pronte consegne di model 3 stanno a significare un nuovo modello e poi una curiosità sull'ultimo aggiornamento software a tra poco bentornati a lampi di tesla proprio qualche giorno fa abbiamo parlato delle prime model y negli stati uniti con hardware 4.0 hardware 4.0 che fondamentalmente migliora la qualità delle telecamere ma cosa succede con hardware 4.0 su model s e model x che è presente anche un radar anteriore vi ricordo che tesla ha tolto i radar nel 2021 negli stati uniti e nel 2022 nel resto del mondo e quindi torna il radar beh sembrava di sì effettivamente andando a scavare un po di più anche le sx che hanno il radar non lo stanno utilizzando e l'ulteriore notizia che è venuta fuori ieri ci sono stati un po di battibecchi nella community americana tesla model y con hardware 4 non sta montando il radar quindi qual è il sunto di tutto ciò quali sono le varie teorie la teoria più accreditata è che tesla abbia deciso di montare il radar solo su alcune sx probabilmente per validazione per poi andare avanti con lo sviluppo di hardware 4 senza radar quindi usando solo il tesla vision e le sole telecamere questo ovviamente è una teoria perché lo fa con sx beh perché sono molte meno una tiratura molto più limitata allora perché montarle se non viene usato probabilmente hanno bisogno di dati reali per andare a migliorare sempre di più il software ripeto sono teorie la certezza è che anche le model y attualmente prodotte a fremont con hardware 4.0 non sono dotate di radar proprio non hanno l'hardware quindi questo è quanto per ora model 3 refresh si model 3 refresh no ilone è stato in cina bloomberg è venuto fuori con la notizia che oggi avrebbero svelato in gran segreto il refresh di model 3 assolutamente non è successo niente di tutto ciò cosa è successo che negli stati uniti tesla ha messo in sconto una gran parte di auto in pronta consegna in particolare circa 3000 dollari su model 3 e 500 dollari su alcuni esemplari di model y questo sta a indicare un nuovo modello devono finire gli stock per uscire col nuovo modello beh siamo abituati a questo tipo di operazioni da parte di tesla poi guardando al mercato europeo se andate a vedere nell'inventario a oggi non ci sono auto scontate se non qualcosina che magari era in esposizione quindi tutte queste teorie di smaltimento dello stock secondo me non stanno troppo in piedi come già detto più volte probabilmente c'è qualcosa che bolle in pentola ma ma secondo me se proprio proprio tesla deve uscire con una model 3 refresh diciamo che un evento abbastanza atteso non lo fa di certo in segreto ma come sempre organizza un evento quindi direi che bloomberg questa volta ha preso una bella cantonata comunque staremo a vedere cosa succede nel prossimo trimestre con l'aggiornamento 2023.12.5 tesla aveva inserito la possibilità di aumentare la dimensione del carattere del padrone quindi le scritte perché effettivamente con la versione 11 erano un po piccole tesla inizialmente aveva dato questa possibilità solo la lingua inglese ecco che con la versione 2023.20 è data per tutte le lingue quindi quando la scaricherete anche se avete il menu in italiano potrete ingrandire i caratteri io trovo sempre che gli aggiornamenti software siano una funzione molto ma molto molto sottovalutata comunque meglio così questo è tutto per oggi vi ricordo che sabato siamo a varano dei melegari in pista per chi vuole venire così a salutare a vederci io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao